Assessore Mazzocca, dopo la frana di Villa Celiera, la Regione sta prendendo ancora più coscienza delle problematiche di dissestro idrogeologico che ci sono nella nostra Regione? A dire la verità prima, tant'è che è da qualche tempo che abbiamo stipulato questa convenzione con l'Ordine dei Geologi d'Abruzzo, che ringrazio anche per la loro estrema disponibilità e sensibilità che hanno avuto nel raccogliere l'appello proveniente dal territorio, nel sostenere, quasi a titolo di volontariato, le attività propedeutiche conseguenti a eventi frenosi come quello purtroppo di Villa Celiera. Oggi sottoscrivemo la richiesta per la calamità naturale, per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, perché riteniamo che ce ne siano le condizioni. Giovedì nel corso della riunione era stata convocata presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per tutt'altro, ma evidenzieremo questa nuova e importante emergenza ambruzzese perché riteniamo che debba essere attenzionata ai massimi livelli. Cosa bisogna fare? Bisogna conoscere bene il territorio, bisogna agire, bisogna iniziare a investire sul territorio, perché il territorio significa portare benessere al territorio, benessere alla gente, significa anche investimenti e questo è sviluppo di un territorio. Se noi continuiamo a lasciare stare il territorio, a fare interventi spot e robe del genere, su questo non ne usciremo mai più. Secondo i dati dell'Apat, noi abbiamo il 92% dei nostri centri abitati che hanno delle criticità geologiche. Villa Celiera è una delle tante criticità geologiche che interessano il nostro territorio, ma ce ne sono dappertutto e uniformemente diffuso dappertutto. Il Chietino ovviamente mostra la maggior parte, la maggiore concentrazione di frane, poi abbiamo il Pescarese, Terramano, eccetera, ma è diffuso dappertutto.